Anche per quest'anno l'annata agraria è stata fortemente condizionata da andamenti meteorologici molto estremi e particolari, principalmente riassumibili in quattro step. Il primo è un novembre eccessivamente caldo, che da una parte ha favorito un buon sviluppo delle piantine, una buona emergenza, ma dall'altra ha anche così favorito molto un eccessivo sviluppo delle foglie, un eccessivo lussureggiamento e un eccessivo numero di piante per metro quadro anche in taluni contesti, così è stato un preludio, un presupposto di fenomeni di allettamento perché troppe piante per metro quadro. Specialmente a carico di varietà precoci, seminate presto, ecco che lo sviluppo delle foglie e delle piantine è stato notevole. Tutto bene fino alla nevicata di metà dicembre, che purtroppo con il suo peso, con la sua coltre, ha così determinato, specialmente in merito a varietà seminate presto e particolarmente precoci, una sorta di costipamento delle foglie, che ha così determinato condizioni di fisiopatie, una condizione di asfissia fogliare e quant'altro, che ha così compromesso un po' il normale sviluppo delle piantine, determinando marcescenze, anomalo sviluppo delle foglie, ed attacchi fungini anche in un contesto inusuale come quello invernale. Dopodiché una siccità che probabilmente non ha precedenti, ha compromesso il normale sviluppo di numerose piante sul territorio, parlo per la provincia di Cuneo, ma riguarda credo tutto il nord Italia, ed in taluni contesti, specialmente in presenza di terreni ricchi in scheletro, sabiosi, in cui purtroppo le condizioni di umidità erano scarse, ecco che il normale sviluppo delle piantine, dell'accessimento, il numero di spighette per spiga è stato letteralmente compromesso. In taluni contesti, aziende agricole che hanno potuto così ricorrere a dirigazione di soccorso, hanno così sopprito un po' il danno, intervenendo già a fine marzo in alcuni contesti, ma nella maggior parte dei casi verso metà a fine aprile. Nel proseguio, per tutto il mese di maggio e purtroppo ancora ad oggi in questo periodo, ecco che invece di siccità abbiamo vissuto un periodo in cui purtroppo abbiamo un eccesso di umidità, un eccesso di pioggia. I primi temporali, le prime piogge di fine aprile sono state letteralmente una manna dal cielo, perché è indispensabile per lo sviluppo delle piantine in campo, ed è stata manna, è stata oro per tutte le colture che coltiviamo in campo, a partire dal mais di primo raccolto, dalla soia seminata in fine aprile e primi di maggio, soprattutto alle foraggere, medicai, prati, specialmente i loietti, gli erbaiemisti e quant'altro, la pioggia è stata veramente una manna. Solo che adesso stiamo vivendo una situazione in cui le piogge sono troppe, troppe coppiose e oltretutto in un periodo particolarmente sensibile per la cultura. Gli interventi agronomici sono stati propizi, sono stati fondamentali, e specialmente il trattamento a base di fungicidi posizionato in prossimità della fine spiegatura, inizio fioritura, che quest'anno è avvenuto mediamente intorno al 5-8 maggio, sicuramente aiuterà a scongiurare l'attacco fungino. Ora siamo in attesa del bel tempo e speriamo che l'andamento meteo ci dia una mano, così per ottimizzare le produzioni sia dal punto di vista quantitativo, ma anche qualitativo in assenza di tossine.